Ciao, sono Erika e ho la sclerosi multipla. Tre anni fa, quando sono comparsi i primi sintomi, ma non avevo ancora una diagnosi, ho deciso di rivolgermi a Riccardo Giacopuzzi, un kinesiologo. Già dalle prime sedute mi ero accorta di aver davanti un professionista, nel senso che mi sono accorta subito che il suo obiettivo non era quello di togliermi il dolore temporaneamente, ma era di capire da dove arrivava e cercare di evitare che poi si ripresentasse in futuro. Ho provato durante una seduta ai Tao Pach, vi assicuro che quando sono uscita mi sembrava di avere due gambe nuove. Me li ha fatti provare altre due o tre volte, dopodiché anche confrontandomi con lui ho deciso di provarli e di questo vi assicuro non lo ringrazierò mai abbastanza, perché i Tao Pach veramente mi hanno migliorato la vita. Il dolore è diminuito, ho più consapevolezza della mia postura, ma soprattutto ho ricominciato a fare le cose che veramente amo, quindi a fare le camminate anche in montagna, cosa che prima non riuscivo a fare per il dolore. Fabio Fontana l'ho conosciuto personalmente perché sono andata a due conferenze e ho avuto anche il piacere di parlare con lui, di confrontarmi. È una persona squisita, disponibilissima. Quando lo senti parlare capisci che i Tao Pach sono una tecnologia che a lui ha portato tantissimo beneficio e il suo obiettivo è quello di farla arrivare al maggior numero di persone, di far star bene il maggior numero di persone. Questo lo percepisci quando lo senti parlare. A parte che è anche disponibilissimo, nel senso che gli scrivo anche sui social e mi risponde sempre. È veramente una persona deliziosa. Se avete occasione andate a una sua conferenza, perché le informazioni che vi dà durante le conferenze sono importantissime. Quindi io mi sento veramente di consigliare a tutti i Tao Pach, perché a me che sono malata fanno bene, ma anche alle persone sane comunque portano un grande benessere. E quindi ve li consiglio.